277 nuovi positivi su 4.859 tamponi con un tasso di positività del 5,7% rispetto a quello nazionale poco meno che doppio al 10,1. Sono i dati abruzzesi diramati nel bollettino covid regionale. Se sul fronte nuovi positivi ci sono netti passi in avanti, purtroppo dal punto di vista dei decessi la situazione stenta a migliorare. Se ne contano 12 nelle ultime ore, secondo le comunicazioni fatte dalle quattro ASL regionali. Per il resto quasi tutti gli indicatori sono in miglioramento. Aumentano le guarigioni, più 620, sopra quota 15.500. Scendono gli attualmente positivi, poco sopra i 15.100, meno 355 rispetto a ieri, mentre sono in isolamento domiciliare 14.449 pazienti. Diminuiscono anche le persone ricoverate in area medica, meno 16, e quelle in terapia intensiva, meno 2. Dunque complessivamente sono ricoverate 631 persone, di cui 64 in terapia intensiva, numeri che restano ancora molto alti e che restituiscono l'immagine di quanto abbia impattato l'ondata di ottobre e novembre, prima che verrissero adottate le misure restrittive. A questo proposito, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato nel pomeriggio l'ordinanza 108 per dare attuazione alla zona arancione, disposta questa volta dal governo e che sarà in vigore a partire da domani.